ecco siamo in diretta buongiorno ben ritrovati sul mio canale allora oggi come lunedì e magari faremo così lunedì andiamo ad analizzare euro dollaro per l'intero settimanale quindi faremo la ciclica di euro dollaro però su time frame settimanale così abbiamo anche una visione una lettura di lungo termine anzi in realtà sarebbe meglio termine a settimana e medio termine sul nostro euro dollaro e poi il resto dei giorni della settimana magari andiamo a vederlo giornalmente o h1 e h4 come facciamo di solito ma prima naturalmente andiamo a proiettare il disclaimer e poi cominciamo allora vado a prendere il necessario ecco qui e proiettiamo sullo schermo e come sempre questi non sono consigli finanziari e nessuno deve fare nulla guardando questi video ma tutti devono fare trading assumendosi la propria responsabilità alla fine della live il video viene automaticamente pubblicato quindi avete a disposizione la registrazione per mettere in pausa il disclaimer leggere con tutta la dovuta calma e anche se questo non fosse o non avvenisse per motivi tecnici in ogni mio video trovate lo stesso disclaimer quindi basta prenderne un altro a caso e potete leggere il disclaimer al suo interno allora andiamo a prendere il nostro euro dollaro a me se non concesso che riesco a trovare la metatrader giusta si trovate eccola qui ok questa qui benissimo ok schermo intero che sicuramente più comodo intanto buongiorno a chi sta arrivando adesso il live che si sta connettendo buongiorno a tutti bene allora cominciamo da dove avevamo lasciato l'altra volta il nostro euro dollaro allora è chiaro ormai si è sviluppato un po di più che potremmo contare in questo senso così ok la nostra distribuzione se più chiaro quindi alla fine si è verificata una distribuzione un po più rara quindi il due i due periodi quindi ciclo 1 ciclo 2 che ogni tanto c'è non è così così comune ma intanto c'è ci aveva tratto un po in inganno anzi non proprio così in inganno perché avevamo valutato e studiato la questione relativa a questo minimo e questa spike quindi avevamo sempre lasciato un punto di domanda aperto ponendo mettendo sul tavolo la possibilità che questo fosse effettivamente il ciclo 1 e questo il 2 perché come vedete la parte 3 non ha fatto un nuovo massimo però attenzione attenzione quindi 1 2 il 3 il 3 il 3 come vedete potrebbe avere tranquillamente la famosa aritmia più e infatti 6 7 candele ok ci sta questa potrebbe essere la aritmia più ed effettivamente il ciclo 3 cominciare in questo punto qui quindi teoricamente dovrei spostarlo così e se lo sposto così come vedete il ciclo 3 effettivamente cade con una chiusura proprio qui quindi questo potrebbe essere effettivamente un ciclo 3 e adesso andiamo a approssimarci sull'apertura sulla ripartenza del ciclo 4 che a questo punto avendo una distribuzione rialzista non fortemente rialzista ma comunque rialzista questa è la trend line ciclica ve la posso anche lasciare ferma lì ok così il solito paolo la mette viola se non sbaglio anzi magenta ok mettiamola si la mette tratteggiata il codice colore è questo vabbè ve lascio così più grossa quindi teoricamente la chiusura dovrebbe venire nei pressi di questa trenta in ciclica adesso ovviamente non è tempo di chiusura quindi qui dovremmo o considerare la nostra apertura ciclo 4 in long che però di solito essendo un ciclo 4 è molto ristretta e molto oggi non ha questa non dovrebbe avere meno che nella maggior parte dei casi si parla sempre di statistica quindi c'è sempre l'eccezione mi raccomando e la questione di cui sto parlando non è mai vera al cento per cento ma è sempre intorno all'ottanta per cento comunque nella stragrande maggioranza dei casi la ripartenza ciclo 4 non è così forte e teoricamente non fa un ciclo nuovo massimo c'è una possibilità però magari ve la faccio vedere su paint giusto per ricordarla a tutti c'è una possibilità in cui ciclo 4 fa un nuovo massimo ok qual è un po ecco spero si veda si si vede ok è questa qui cioè quando diciamo così apriamo la distribuzione è in concomitanza con un ciclo h4 cioè di time frame superiore in ripartenza allora in questo caso vado anche prendere il magenta abbiamo la nostra trend line ciclica diciamo così essendo molto forte il ciclo superiore allora il ciclo inferiore di solito si divide in quattro parti così ed effettivamente il quarto ciclo può fare se l'ho disegnato veramente male però insomma capitemi no può fare un nuovo massimo perché perché in realtà siamo in h4 c1 o magari c2 che comunque una ripartenza forte cioè quando siamo in un impulso forte di grado superiore che spinge deforma usate il termine che più vi piace i cicli h1 che sono questi ovviamente sempre rialzo c11 no che cosa sto scrivendo 1 2 3 e 4 quindi potrebbe essere che in questi casi il ciclo 4 fa nuovo massimo certo tutto può fare mercato fa sempre quello che vuole la prima regola del trading e il prezzo fa quello che vuole ma se vedo sempre minimi crescenti specialmente il centrale ecco allora magari questa fase qui della parte destra della distribuzione effettivamente posso immaginarla con nuovi massimi il nostro caso invece andiamo a riprendercelo è un po ambiguo un po ambiguo perché come vedete abbiamo un 1 un 2 che fa ciclo massimo un'aritmia probabilmente un'aritmia più al centro un ciclo 3 che non mi fanno massimo ok quindi non abbiamo 1 2 3 e 4 nuovo così quindi ho i miei seri dubbi poi il prezzo può sempre smentirmi quando vuole che questa ripartenza sia effettivamente così forte da fare almeno 38 40 pips e andare a far nuovo massimo anche perché vedete che la gaussiana ormai è arrivata sul livello massimo che magari non vuol dire niente perché può calare può fare così però sicuramente non è nella migliore delle posizioni se avessi avuto magari la gaussiana qua esattamente come qua o come qua in questo punto qua cioè sulla mi spiego in questa riparte allora avrei avuto più possibilità per una ripartenza magari con più forza così non la vedo proprio se non vedo la spinta così potente ecco quindi me ne starai molto attento a fare dei long qui poi ognuno faccia quel che vuole perché ovviamente questi non sono consigli finanziari il nostro delta volume che stiamo utilizzando non mi dice ancora niente perché vedete incoerenza quindi angolo positivo angolo positivo quindi non ho divergenze di sorta e niente certo l'indicatore questo qui sempre volumetrico che non è così affidabile solo per una lettura migliore di sicuro non faccio tre di con queste però già indicativo mi dà due punti di short che mi va ad indicare effettivamente una debolezza vedete cosa vuol dire non anche qua mi dice guarda che potrebbe esserci no potrebbe anche esserci un long potrebbe esserci anche un long effettivamente poi la ripartenza ci sta attaccato non nei punti in cui mi indica l'indicatore ma dove dove serve alla fine questo quindi questa è la visione h1 ma adesso andiamo a vederla ovviamente più in grande come promesso la visione settimanale anzi passiamo dal daily alla settimana allora daily andiamo a vedere un po di recuperare il tutto allora 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 ci vorrebbe anche una gaussiana ma adesso non importa non mi ricordo abbastanza memoria allora il daily alla fine andiamo a vederci questo punto qui ormai lo conosciamo più che a memoria quindi 1234 lo riportiamo così effettivamente rispetta i tempi evidentemente c'è una ritmonia da qualche parte perché vedete che si sono invertiti i cicli anche se poi in realtà non lo dico mai nei video ma anche se vi si sfasa il ciclo invece di avere un minimo invece di avere un minimo avete un massimo quindi vuol dire che c'è una ritmonia da qualche parte alla fine poi finita la distribuzione è molto probabile che torni in fase questo sempre per il solito giochino che devono per forza sfasare i tempi perché sennò tempo due giorni ci compriamo tutti la Ferrari quindi probabilmente questa è la ciclica che mi ritorno in fase qui e guarda caso guardate che bella n ciclica che c'è qui ci sta tutta su daily potremmo anche calcolare da qui e volendo siccome è molto visibile il minimo centrale si potrebbe anzi facciamolo perché per chi non è ancora a vezzo alla ciclica e a contarsi le aritmie è più giusto che guardi i cicli con più coerenza quindi vedete qui più o meno 33 effettivamente ci sta questa chiusura qui può essere la chiusura vedete la m il ciclo 1 ciclo 2 che chiude con la m piccola aritmia quindi si sfasa un pochino fino al 4 ok e ciclo x o addirittura un ciclo qui quindi se lo prendiamo qui e aggiustiamo un po le aritmie ecco qua è molto probabile che 1 2 3 e 4 no quindi c'è un ciclo x da qualche parte quindi probabilmente questo pezzo qui è ciclo x quindi per forza devo andare a calcolarmelo così ciclo 1 2 3 qua e infatti ciclo 1 2 3 4 anche se questo non ha fatto ha fatto doppio minimo invece che un minimo ok quindi teoricamente dovremmo essere 1 molto sporco qui bisognerebbe studiare bene se c'è qualche aritmia in mezzo 2 3 4 ok che alla fine potrebbe essere anche smizzato così che quindi quella situazione è poco chiara ma è normale perché questa qui è la classe il classico accumulo la compressione coda grazia chiamatela come volete di fine di fine pattern quindi è ovvio che ci siano delle divergenze esattamente come qua no quindi si sta ripetendo quindi una cosa del genere quindi è ovvio che sia incerto il tutto però tutto sommato noi abbiamo un tentativo di rottura della media 1248 che potrebbe essere interpretata come ciclo 1 però avete visto che non ha forza quindi se proprio questo dovrebbe essere o vuole essere un ciclo 1 ora essere un ciclo 1 vediamo il futuro probabilmente non avrà questa grande forza quindi qui sicuramente siamo in una ripartenza fatemi calcolare anche le 22 e poco 123 con ciclo x e 4 smizzato potrebbe essere anche così ragazzi miei è molto molto ritmico però vedete che tornano i tempi la lettura ciclica la dovete fare con un po di esperienza come vedete perché non può essere una cosa tagliata con il bisturi proprio per la questione delle aritmie e del fatto che devono sfasare i tempi quindi dovete avere occhio orientarvi con le medie vedete che qui quale di questi due può essere il ciclo 1 alla fine non lo sappiamo perché tutte e due tagliano la media e queste cose sono fatte apposta sia perché siamo in chiusura ovviamente di un ciclo più grande sarà più chiaro ovviamente con il weekly infatti quando avete questi dubbi li espongo qui ve li faccio vedere materialmente anche per darvi anche il metodo cioè nel senso quando ho i dubbi su un time frame in questo caso daily alla fine poi vado su quello superiore e vedo se la situazione si chiarisce di solito si chiarisce allora qui quindi avremo due possibilità o tenere conto di questa parte qui che è molto nervosa quindi molto aritmica quindi difficile da leggere tenerla 1 2 3 4 con un'aritmia al centro oppure prendere anche questo che effettivamente ha un taglio sulla media 48 e tenere la nostra distribuzione come vedete 1 2 3 questo potrebbe essere calcolato anche come 4 perché vedete che a parte qualche millimetro praticamente ha fatto doppio minimo quindi questo è anche molto ambiguo se fosse fosse arrivato qui su e non ci fosse questa spike avendo un angolo positivo mi sarebbe molto più chiaro che questo ciclo qui fa parte di un'altra distribuzione quindi 1 2 3 o se volete 1 2 3 4 finisce qui e questa è un'altra distribuzione però hanno voluto fare questa spike che probabilmente è un piccolo errore ciclico che ci sporca un po' di più la lettura però insomma i tempi come vedete vengono comunque rispettati ci sta che è poco più poco meno quel 10 per cento che sappiamo sempre quindi comunque qui siamo alla ripartenza di qualcosa bello adesso sarà vedere se vuole rompere questo livello effettivamente confermarci che questo sia un ciclo 1 debole o un'aritmia e avere una ripartenza con un nuovo 1 o con un 2 forte e avere una distribuzione di questo tipo magari oppure no quindi i giochi qui sono ancora da fare ma è ovvio siamo nella compressione e come facciamo a risolvere questo problema semplice andiamo sotto inferenza superiore eccolo qui rifacciamo la lettura pulendo un po' il grafico ok qua si vede che però c'è l'aritmia quindi probabilmente parte da qua vediamo se è vero o non è vero minimo centrale ci sta 26 candele potrebbe anche il weekly probabilmente potrebbe riassorbire l'aritmia che c'è in daily 1,2,3,4 ah eccolo qua ok vedete come con il time frame superiore l'analisi multi time frame ci semplifica così tanto la vita vedete che sul weekly abbiamo dissipato i dubbi di prima che ho fatto vedere apposta 1,2,3 e 4 si ci può stare anche un po' di quindi un po' di scarto ok questo magari è una bella aritmia ciclo X ci sta tutto magari fino a qui fino a metà quindi fino al 24 del 7 quindi fino a metà del prossimo mese circa potrebbe svilupparsi ancora un ciclo X e quindi scendere ancora quindi tenete conto che siamo in aritmia quando usate time frame più piccoli quindi ancora la determinazione dell'impulso non è chiara però di fatto il pattern a 4 tempi è questo se poi vorrai iniziare un altro pattern discendente ok quindi ribassista va bene anche perché come vedete se questo è il minimo comunque tutta la nostra distribuzione è ormai diventata ribassista potremmo anche andarci a calcolare è molto utile la forza ciclica molto molto utile però lo devo fare al contrario aspettate ecco così anche qua e qua con il nostro Fibonacci andiamo a vederci tutti i livelli allora non è ancora arrivato al 125 ok le spike sono oltre la metà la chiusura come vedete è esattamente a metà aspettate forse l'ho presa male eccola qui è esattamente alla metà dei due livelli 22 no cos'è 227 228 dai approssimiamo 214 quasi perfettamente la metà un po' di scarto ma è ovvio che con il weekly un pochino di più ecco abbiamo più pips e quindi possiamo scartare un po' di più siamo con la chiusura quasi a metà le spike effettivamente ho notato che non contano tantissimo se vanno oltre i livelli di gan perché questo Fibonacci quando lo mettiamo così alla fine mi va a dividere in quattro parti uguali vedete come lo utilizzo io 0, 25, 50, 75, 100 e così via anche l'estensione 125 ricalcolano le anzi scusa ricalcolano e ricalcano i livelli di gan perché sono pari cioè la divisione in quattro quarti sia di tempo che in quattro quarti sia di estensione pari pari quindi quadrato quadrato di gan ogni pezzettino così è un quadrato poi ovvio che non può valere più di tanto per chi usa la metà trader la figura geometrica intendo perché abbiamo la deformazione ma di fatto questo è calcolato in base al tempo e allo spazio quindi anche se lo deformo non ha importanza perché qui le proporzioni mi restano corrette ok? le proporzioni non quelle che si vedono ma comunque il quadrato ecco questo quello che voglio dire è che il quadrato mi varia esattamente come variano le candele quindi si deformano insieme e quindi posso utilizzarle dicevo le spike non valgono tantissimo non sono così determinanti però più che altro le chiesure andiamo a vedere se effettivamente è la metà cerchiamo di capire cosa accadrà accidenti ecco zoomiamo un po' di più no così non mi sta eccolo qua andiamo a vedere effettivamente dove sta il 50% beh vedete ecco scatta di un po' di pochino ok? però ci siamo cioè le chiusure hanno preso il livello 50 del sottolivello di questo quadrato naturalmente quindi ci siamo cancello perché così non fa conclusione quindi in conclusione per concludere la nostra analisi weekly abbiamo il pattern che è teoricamente temporalmente concluso ok? ha chiuso con trend line ciclica discendente ok? volendo come fa Paolo si potrebbe anche costruire un canale ciclico che guarda caso ok? magari di poco ma è quasi coincidente effettivamente con con i massimi ok? manca poco ma insomma la precisione del trading non ce l'abbiamo mai volendolo potrei anche spostare effettivamente su queste spike che però guardate questa spike qui coincide esattamente con quella e questo è l'eurole ciclico no? il canale parallelo guardate quanta armonia nell'euro dollaro esattamente come quello cioè la trend line è esattamente parallela come quella ciclica sotto ok? anche sui massimi per chi vuole poi giocare può anche costruirsi le altre trend line come vedete non sono mai a caso c'è sempre un'armonia anche se ci può essere qualche piccolo errore ciclico ok? ve ne potete mettere veramente quante volete e troverete sempre perché l'euro dollaro è fatto così guardate tra l'altro anche la regolarità del canale non sono proprio precise al millimetro perché questo è un po' più stretto però guarda caso questa distanza qui e questa distanza qui sono molto molto simili ok? questo non è un caso 550 pips e più o meno saranno anche qui 75 ecco non sono proprio uguali però si assomigliano molto ok? queste qui quindi abbiamo per tirare le somme le conclusioni la fine di un pattern quindi una ripartenza di un nuovo pattern che però sembra non esserci ancora perché non dimostra questa forza abbiamo rimbalzo sulla 12 mi dimostra più che altro una ritmia che attenzione potrebbe essere anche conclusa qui cioè la ritmia potrebbe essere tranquillamente questa ok? e ci sta la ritmia in questo in questo senso che fa un po' da ciclo X e ripartire da qui cosa che non mi piace per dirvela per dirvela tutta è che non mi coincide con il tempo sarà dispare sicuramente per quello non mi prende la metà infatti 27 quindi più o meno qui tra il 17 e il 24 le due settimane ci dovrebbe essere la ripartenza di metà ciclo quindi effettivamente che mi vada a ripartire qui non mi piace tanto ok? e una delle possibilità è che si formi la classica aritmia m ciclica come ha fatto qui o come faceva un tempo dietro beh qui sono molto sporche non si vedono ma questa si vede bene tac 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 così per esempio guardate ecco questa si vede molto bene ok? questa si vede veramente bene ok? una cosa molto simile a questa che abbiamo visto qui con le dovute proporzioni siccome manca tempo potrebbe essere che faccia questa cosa qui la 12 è qui potrebbe concludersi lì e andare giù ed effettivamente essere in coerenza con gli altri train frame che abbiamo visto prima che non mi davano questa grande forza a rialzo ecco quindi euro d'olio ora ancora in compressione io sinceramente non farei posizioni grosse o di grande estensione verso l'alto ma neanche verso il basso perché alla fine comprare sui minimi sinceramente scusate vendere sui minimi sinceramente non è proprio una delle mosse più intelligenti dell'universo giusto? a meno che non mi vada a rompere la trend line ciclica allora qui ne riparliamo non mi deve fare tutta la distribuzione ribassista quindi punto un po' di ferma ok? su euro dollaro studiarsi molto bene questa questa situazione penso che per la settimana sia tutto quindi il quadro è qui io lo lascio così quindi lo guarderemo ogni lunedì e vedremo il suo sviluppo magari giungeremo sotto anche un po' di gaussiane così andiamo a costruire un po' il nostro il nostro analisi weekly e la seguiremo poi settimana per settimana tenendo conto che comunque il tempo effettivamente di ripartenza dovrebbe essere intorno alla settimana o del 17 o del 24 del 7 però viene del prossimo mese quindi abbiamo ancora un bel po' di tempo per restare dentro la nostra aritmia poi naturalmente il momento in cui mi fa mille pips e mi taglia la 48 vabbè è ovvio che siamo in ciclo 1 o comunque anche una bella spinta sul taglio della 12 rompendo questo minimo potrebbe darne qualche avvisaglia di effettivamente di qualcosa che può ripartire però attenzione finché non taglia la 48 non ci siamo ecco il ciclo 1 e per adesso anche soltanto prendere in considerazione la 12 a una distanza di 600 pips che non è uno scherzo tutto sommato anche se ci sono settimane in cui può fare come vedete 350 pips o poco meno quindi dovrebbe fare due candele di questo genere o due o tre candele per andare a prendersi effettivamente la ripartenza proprio in questo punto andarsi a prendere i 600 pips difficile io la vedo come una possibilità con minore probabilità ecco diciamo così vedo più che altro adesso una semplicemente un continuare in queste aritmie magari facendo anche un piccolo minimo poi adesso sto speculando naturalmente perché non ho la sfera dei cristalli se mi fa un piccolo minimo qui senza esagerare magari anche con una spike che taglia la tenda in ciclica che effettivamente non ponta troppo mi arriva a tempo giusto e poi effettivamente la ripartenza allora questo mi piacerebbe vedere sicuramente per andare a cercare effettivamente il nuovo ciclo 1 weekly e qua potrebbe essere interessante primo take profit ovviamente dovrebbe essere questa trend line che abbiamo messo qui che coincide un po' con la prima compressione di 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 Wyckoff ok benissimo vado di nuovo a prendere i miei banner ok togliamo un attimo il piccolo qui io vi saluto quindi per oggi è tutto a meno che non avete domande vi invito a iscrivervi al canale cliccare la campanellina così avete direttamente l'avviso perché le mie live matutine sì ma sicuramente non ho un orario fisso quindi può variare tenterò di fare verso le nove e mezza dieci così però può essere come oggi che alcune giornate ho bisogno di cambiare l'orario se avete la campanellina vi arriva automaticamente o dovrebbe arrivare automaticamente il segnale quindi potete collegarvi direttamente certo che l'analisi weekly potete vederla anche indifferita non cambia molto ma se facciamo come il martedì mercoledì giovedì o altri giorni infrasettimanali invece quello H1 vi serve un po' di più la campanellina lunedì magari è relativa poi se mi mettete i pollicioni giù o in su mi fate anche un grande piacere grazie mille il mio contatto Skype ovviamente l'indirizzo del blog è il referral link per quanto riguarda l'apertura di conti errante se volete automatici e non che tra poco andrò a rimettere live con le nuove versioni dei robot così mostriamo di nuovo le migliorie e potete monitorare l'anzamento dei nostri dei nostri robot perfetto io vi ringrazio quindi se non ci sono commenti vado a vedere no vi saluto e vi do appuntamento a domani e mi raccomando sempre lock sui mercati ok ciao ciao grazie mille grazie mille